Tempi di intervento più rapidi e trasmissione dei dati immediata da oggi sulle ambulanze della Versilia, grazie ai nuovi smartphone in dotazione al personale paramedico a bordo. È stata presentata all'auditorium dell'ospedale Versilia, di fronte a tutte le associazioni di volontariato del territorio, Ampas, Misericordi e Croce Rossa, la nuova app creata dal gruppo informatico BP. Un GPS integrato mette in contatto diretto, aggiornato automaticamente ogni 11 secondi i mezzi di soccorso con la centrale del 118. Informazioni, posizionamenti, indirizzi di intervento arriveranno direttamente sui nuovi smartphone 73 in tutto, donati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Permetteranno alle associazioni di volontariato di ricevere la missione soprattutto laddove è possibile di essere guidati anche sull'obiettivo attraverso un sistema di navigazione che parte direttamente dalla centrale operativa, quindi gli operatori delle associazioni di volontariato non avranno la necessità di andare ad inserire in un qualunque navigatore satellitare per esempio l'indirizzo dell'obiettivo ma già gli arriverà precaricato dalla centrale operativa, così come tutta una serie di notizie importanti sulla missione. Mi sembra che il progetto sia andato molto bene, la presenza oggi di volontari e dei direttori dell'ASL fa vedere proprio anche fisicamente questo stretto accordo, quindi non possiamo che essere soddisfatti che l'investimento fatto sul territorio sia andato a buon fine. Una novità accolta a confiducia dagli operatori sanitari attivi attraverso le associazioni di volontariato. Una bellissima iniziativa iniziata circa due anni fa che ha visto il coinvolgimento delle associazioni di volontariato che sono artefici importanti del servizio di trasporto sanitario di emergenza ma anche ordinario, dico della Versilia ma di tutta la Toscana.